Questa è la mafia. Paura. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre. E chiedono aiuto. Ma io non so che tu c'hai le crisi d'ansia. Da questi ragazzi ci vai tu. Sei tu l'uomo dell'ora venuto a salvarci? Agibilità temporanea in deroga. Il bando che assegni terreno. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta? Ma è pochissimo. Di marca da bollo. Vengo a stare in cooperativa con voi. Cazzo però quando sudate voi dal governo. Ma noi facciamo biologico. Facciamo biologico ma è un modo di dire no? Così vede. Dove tagliare? Do, 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 do e do. Dacci un criterio, una chiave concettuale. Ma voi siete tipo marito e moglie. Chi è che... Chi non sape fare un cazzo? Tutto il tuo cuore. Ma questa non manda la mafia, dobbiamo reagire. No, questa la manda il mio cugino. Dobbiamo sparare. Avremo il primo stipendio. E lo Stato ci rimanda come vicino il boss al quale abbiamo portato via la terra. Buongiorno. Nicola Sanzone. Sanzone è come un loop. La paura lui la sente. Casale! Brucia il casale! Ciao! Luca! Sì, 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 Sì!